Che siete un tipo malinconico, preferisco pensare a qualcosa piuttosto che ridere di qualcosa. Uffa! Quelli che giangono in un universo o nell'altro sono insopportabili, peggio degli ubriaconi. Io so tenermi dentro la mia malinconia, non intendo impastidire nessuno o essere in peso. Non capisci? La mia malinconia non è quella di emulazione dello studioso, e neppure quella del contigiano annoiato, della donna strana di cimentare, del matisarato sottufo di svicolare tra leggi furbe, dei soldati che vuole vincere o dell'innamorato che è stupido. La mia malinconia è solo mia, somma di tutte le intenzioni fatte nei miei viaggi, un continuo rimuginare che mi ha sprofondato in una tristezza mutevolissima. Ah, ora capisco. Siete come un viaggiatore che ha venduto le sue terre per andare a vivere quelle degli agli e vi ritrovate con gli occhi miei, ma le mani vuote. Già, però mi sono arricchita di esperienze. Beh, ma è il durmato che mi tiene allegro, piuttosto che un'esperienza che mi ratteristica. Felice durmato! E voi dove siete state tutto questo tempo? Tu sareste rinnamorato?